Ciao e benvenuti a tutti al Google Junior Training Series. Sono Adele Leccia, Google Educator di G&G Italia e ora vi mostrerò come funziona il menu Waffle, meglio noto come menu delle app. Primo passaggio, identifica dove si trova il menu Waffle o menu delle app. È questo bottone, questo tasto quadrato con nove puntini che si trova accanto all'icona dell'account che è spesso indicata con l'iniziale del tuo nome. Si trova sempre nell'angolo in alto a destra ed è sempre nella stessa posizione in qualsiasi sistema Google. Cliccandoci sopra è possibile accedere e aprire tutte le app collegate al nostro account. Passaggio 2. Dal menu delle app, dal Waffle, cliccandoci sopra, noi abbiamo a disposizione appunto tutte le app collegate al nostro account che possono essere far partite direttamente dal menu. Passaggio 3. Se abbiamo delle app che adoperiamo più spesso, le possiamo spostare in alto. Ad esempio, YouTube, se lo adopero più spesso, posso prenderlo con il mouse e trascinarlo in alto e automaticamente si sposterà in alto. Grazie e guarda gli altri video della Google Junior Training Series.